ho scelto serie f di moretti perché lui ha scelto me 35 anni perché arrivò due anni fa e il terzo vuol dire che durano veramente tanto sono affidabili per un ristorante a grandi doti perché ci si può fare ad alti livelli sia la cucina che la pasticceria diventa un elemento importantissimo il calore il calore va gestito perché altrimenti è come una una macchina potente grandi prestazioni ma se non la sai usare bene se non domini la sua potenza e il suo calore il risultato finale di quello che ci metti poi a cuocere non può avere il giusto risultato benché all'inizio avessi dei timori sui consumi elettrici poi ho visto che addirittura diminuiscono perché le prestazioni sono sono eccelse quindi il tempo di uso e di utilizzo del forno è minimo e circoscritto a quella cottura quindi i tempi di attesa per andare in temperatura sono molto brevi e quindi le prestazioni sono sono ottimi il pensiero era quello cosa posso fare affinché il mio futuro sia più più lungo il mio orizzonte sia più lontano e quindi ho pensato che la ricerca fosse la risposta di questo è nato il tunnel attrezzature alcune diverse da quelle della cucina tra queste attrezzature trovano spazio anche attrezzature che sono in cucina o meglio lo erano perché il forno statico sembra che abbia un po abbandonato le cucine ci siamo ritrovati negli ultimi anni con forni ventilati e devo dire che il piacere di cucinare di usare il calore di un forno statico è sicuramente il top è una cosa dimenticata ma della quale abbiamo bisogno cottura speciale perché naturalmente la cottura del forno statico lo è quindi le varie risposte però su questa sperimentazione l'avremo tra qualche settimana